Siamo qui perché ci stiamo preparando, domani è una giornata importante scatteremo la campagna di Raspini 2024 Tutto vogliamo essere, meno che lussuosi, prestigiosi ed esclusi vogliamo essere inclusivi, del prestigio non ce ne importa nulla e del lusso inteso come esagerazione, come strabondanza ci dà fastidio La donna Giovanni Raspini 2024 è una donna forte, determinata, coraggiosa e poi io la percepisco come una donna guerriera Questi genelli mi fanno sentire capita Vi ringrazio di avermi ascoltata e vi saluto con un enorme bacio